Ormai ci siamo, domeniche a Cieli di Forte dei Marmi si animeranno per l'Air Show in occasione del primo centenario dell'indipendenza del Comune. La presentazione ufficiale dell'evento si è tenuta all'hotel Presidenti del Forte, alla presenza del sindaco Berto Buratti e dei comandanti dei reparti volo impegnati nell'esibizione, tra cui le frecce tricolori, che chiuderanno le celebrazioni intorno alle 18. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell'acrobazia aeree, che prenderà il via intorno alle 15, nello spazio aereo antistante il Pontine, con aerei d'epoca, elicotteri e il reparto sperimentale dell'aeronautica, che ha messo a disposizione alcuni velivoli di ultimissima generazione attualmente in dotazione. L'organizzazione tecnica di questo circo dell'aria è stata affidata all'Aeroclub Bresso, presente con il Presidente Andrea Corte, il Direttore Generale Maurizio Viti e il responsabile in relazione esterna Vittorio Cucurnia. Il Forte dei Marmi, cento anni di autonomia, volevamo celebrare in un modo particolare, è quello di aver chiamato l'eccellenza, una delle eccellenze italiane, perché le frecce tricolori, quando sono in giro per il mondo, portano quella serietà, professionalità, capacità italiana, in questo caso dalla nostra aeronautica militare, che in ogni posto dove va porta alto il tricolore, quello stesso tricolore che noi speriamo di vedere nel cielo di Forte dei Marmi, per celebrare tutti quanti assieme questo centenario.